Siamo in compagnia di Mattia De Fabritis, domani l'appuntamento più importante della stagione si giocherà a penne, avete a disposizione due risultati su tre, ma l'importante comunque è scendere in campo sempre per vincere perché scendere il pareggio potrebbe essere controproducente per voi. Noi scenderemo in campo per fare una partita importante puntando ai tre punti, perché se si scende in campo pensando di pareggiare la partita fino al novantesimo è dura arrivarci al novantesimo, per cui noi andremo in campo come abbiamo fatto con il Montorio e dal primo minuto sarà una battaglia. Nel corso della tua carriera hai vinto diversi campionati con Teramo, Vastese, Chieti, come si gestiscono questi momenti clou della stagione all'interno dello Spogliatoio? Questi momenti diciamo che sono i più belli perché se vai a ritroso torni indietro e vedi tutti i sacrifici fatti durante l'anno, adesso in questo momento bisogna goderseli questi momenti perché domenica arriva il momento più bello che possiamo sfruttare per vincere il campionato. Secondo te dove si potrà colpire in particolare il penne? Il penne ha molta qualità davanti e dobbiamo stare attenti ai loro attacchi, però noi sappiamo la nostra forza e siamo consapevoli che con il nostro gioco, con la nostra capabilità riusciremo a fargli male. Di allenatori ne hai avuti tanti in carriera, anche importanti? In Peppe Soria che caratteristica trovi? Il mister è comunque preparato, è un grande gestore, sa gestire il gruppo, ci fa stare sereni, ci ha fatto sempre stare bene.